La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Reyen, si è recata nelle zone colpite dall'alluvione in Emilia-Romagna, avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì della scorsa settimana. Accompagnata dalla Premier italiana Meloni e dal Governatore regionale Bonaccini, ha sorvolato prima le zone e poi successivamente ha visitato alcune delle città devastate. Quando sono venuta la cosa che mi ha colpito di più è stato vedere la reazione delle persone. Nel corso della visita ha aiutato anche un bambino che per vederla da vicino era finito nel fango. Il sostegno europeo dunque si sente in maniera tangibile ed è per questo che ci si aspetta un sostegno economico e finanziario di aiuti, contando sul fondo per le emergenze europee. In serata, giovedì, un nuovo Consiglio dei Ministri ha deliberato altri aiuti per le popolazioni colpite e dichiarato lo stato di emergenza per le marche con sei città ed una provincia colpita e la Toscana, attingendo aiuti dal fondo salvastati.